Il primo caso di contagio da coronavirus in Sicilia è stato appurato poche ore dopo che si era conclusa la conferenza di Catania, quella presieduta da Nello Musumeci alla presenza dell'assessore alla sanità Ruggero Razza, del capo della protezione civile Calogero Foti, del presidente del Lanci, Leo Luca Orlando. Tampone risultato positivo su una turista proveniente da Bergamo, partita dallo stesso aeroporto, quello di Oriol Serio, da cui sono partiti anche diversi tra studenti e lavoratori che sono tornati presso le loro famiglie e che adesso si trovano ovunque in Sicilia, alcuni di loro sono anche a sciacca. Arrivi e partenze anche precedenti a quello specifico che possono avere potenzialmente veicolato il virus anche dalle zone focolaio, dalle nostre parti, anche da settimane e magari qualche altro caso, speriamo di no, può essere tuttora in fase di incubazione. La donna bergamasca che dopo avere accusato significativi sintomi influenzali si è rivolta al 118, quindi non ha raggiunto autonomamente alcuna guardia medica né aree di emergenza e di ospedali, adesso è ricoverata al cervello, il marito è sotto osservazione, la comitiva di turisti di cui faceva parte è isolata in hotel, in quarantena, in attesa di capire se tra di loro possano esserci altri contagiati. L'approdo del virus a Palermo rende la situazione generale ancora più difficile di quanto già non fosse e la psicosi che già era in atto, quella che nelle scorse ore ha visto svuotare gli scaffali dei supermercati e che stamattina ha visto tantissimi, tra scolari e studenti che non sono entrati in classe, a questo punto è destinata ad aumentare. Inoltre appare fin troppo chiaro come le stesse osservazioni che tutto sommato volevano essere rasserenanti fatti dal Presidente della Regione ieri sera inevitabilmente sono destinate ad essere riconsiderate se non ridimensionate perché qualcosa è decisamente cambiato. Con chi parlare quando si presume possa avere una condizione di patologia, lo abbiamo detto e non ci stanchiamo mai di dirlo, il luogo peggiore in cui andare è il pronto soccorso degli ospedali, perché si rischia per sé e soprattutto per gli altri che negli ospedali hanno bisogno di cautela, hanno bisogno di tutela, si telefona al medico di famiglia o ai numeri del servizio preposto, il medico avrà cura di interrogare il cittadino per sapere se i sintomi sono dettati da uno stato particolarmente emotivo o se invece possono avere qualche fondamento e poi si procede di conseguenza, si dispone per la prova del tampone che può essere fatto queste sono le strutture predisposte, il poliglinico di Catania e quello di Palermo. Un'epidemia che sta generando anche un cortocircuito istituzionale con i comuni che diramano singole ordinanze nell'attesa che la Regione e l'assessorato alla salute forniscono indicazioni chiare e precise che possano rendere omogenei tutti i provvedimenti emanati dagli enti locali, ma nel frattempo le conseguenze di questa situazione sono anche inevitabilmente economiche, fioccano di minuto in minuto solo a titolo esemplificativo, le cancellazioni dei posti letto prenotati negli alberghi, situazione che come la nostra redazione ha appurato si sta verificando in queste ore anche a Sciacca. Gli arrivi in Sicilia di questi giorni degli studenti residenti nelle zone interessate e dei numerosi casi che sono stati scoperti nei giorni scorsi, ancorché senza volere indugiare in considerazione allarmistiche, devono far presumere che tutti questi ragazzi, non è necessario che presentino sintomi influenzali visto come ci siano diversi casi di contagio da soggetti asintomatici, abbiano avuto l'accortezza di evitare contatti con l'esterno, dandosi una sorta di quarantena volontaria, insomma la situazione è complicatissima ed oggi è difficile immaginare cosa possa riservare il futuro.